Quali sono le principali novità della nuova riforma della legge elettorale, il cosiddetto Italicum? Si tratta di un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza che intera in vigore dal primo luglio del prossimo anno e che vale solo per la Camera dei Deputati perché il Senato è oggetto di un'altra riforma in discussione in base alla quale i senatori saranno solo 100, scelti tra sindaci e consiglieri regionali. L'elettore troverà per la Camera una nuova scheda, ogni casella sarà composta dal contrassegno del partito, accanto il nome il cognome del capolista e due righe per le preferenze. Le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise in 100 collegi plurinominali, mentre in Valle d'Aosta e Trentino e Alto Adige si reintrodurranno i collegi uninominali. Passiamo al premio di maggioranza. 340 seggi saranno attribuiti alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40% dei voti validi. Se nessuna lista raggiunge questa quota, si terrà un turno di ballottaggio tra le due maggiormente votate. Non si potranno però fare apparentamenti tra i due turni. La soglia di sbarramento è fissata ad almeno il 3% dei voti validi. Nelle liste i candidati saranno presentati in ordine alternato per sesso. Nessuno può essere candidato in più collegi, neppure in altra circoscrizione salvo i capolista nel limite di 10 collegi. L'elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista. Sono eletti prima i capolista nei collegi, quindi candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Gli elettori temporaneamente all'estero come studenti o militari in missione potranno votare per corrispondenza nella circoscrizione estero. I 12 deputati in questa circoscrizione saranno eletti ancora con il sistema attualmente vigente.